Gli è capitato uno dei collegi più difficili d'Italia, ma per l'ex prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, candidato alla Camera nell'uninominale di Campagna 3, nella coalizione di centrodestra, non è un problema. Anzi, la sfida è anche più stimolante. Vomero e Arenella, ma anche Vicaria, Poggio Reale, Scampia, Secondigliano e tutta la zona industriale. Per l'ex vice capo della Polizia di Stato, la ricetta è solo una, sicurezza e lavoro vero. Come ha ripetuto in una campagna elettorale tutta curvata sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è il mio nemico invisibile, perché io non conosco gli altri candidati. Il reddito di cittadinanza va modificato. Io capisco la gente che non può lavorare, invalidi, persone anziane, persone che hanno perso il lavoro e quindi c'è bisogno, almeno per un po' di tempo, di sostegno. Per questo sì è giusto, ma per il resto assolutamente no. Come si fa a vivere senza avere la voglia di competere, di essere bravi, di essere gratificati nel mondo del lavoro? È una cosa che io non capisco. L'ambizione di Pecoraro è quella di rappresentare in Parlamento le vere istanze del collegio, in particolare dei quartieri più poveri, accorciando le distanze tra Napoli e Roma. Devo essere il portavoce del mio collegio di queste zone disastrate, portare delle proposte affinché queste zone possano risorgere. Ho trovato delle situazioni assurde, delle situazioni incredibili, soprattutto in alcune zone come Scampia, Secondigliano, dove è necessario assolutamente l'intervento dello Stato. Bisogna fare il possibile perché tutto quello che noi stiamo promettendo diventi concreto, si concretizzi seriamente e aiuti i bambini, i ragazzi, i giovani ad avere un giorno un lavoro dignitoso.